Ci sono due tipi di motivazioni, una legata a fattori interni e l'altra a fattori esterni. Sorprendentemente i fattori interni sono più importanti rispetto agli incentivi esterni, ovvero gli studi che sono stati effettuati in tutto il mondo sulle motivazioni per cui molte persone hanno scelto la carriera imprenditoriale ci dicono che non è il denaro, non sono gli incentivi esterni, il riconoscimento sociale è il principale motivo per cui si sceglie questo tipo di professione. In realtà i fattori determinanti all'imprenditorialità sono il desiderio di indipendenza, il desiderio di libertà, di poter gestire il proprio tempo, la propria vita e soprattutto il desiderio di creare qualcosa di proprio, di nuovo, di innovativo da soli per se stessi e quindi alla fine se vogliamo trarre il succo del discorso sul perché si diventa imprenditori è in genere perché si ha una forte passione per qualche cosa e si vuole realizzare un progetto, un'idea in un settore. Grazie a tutti.